Musica Eccoci di nuovo dunque con tutti al voto, speciali elezioni amministrative. Vi presento subito i nostri ospiti che prendono parte a questo confronto tra i candidati consiglieri all'Assemblea Capitolina. Vi presento i nostri ospiti Marcello De Vito per la lista del Movimento 5 Stelle che sostiene la candidatura a sindaco di Virginia Raggi. Buonasera. Buonasera. E il momento invece di Andrea De Priamo, candidato all'Assemblea Capitolina per la lista Fratelli d'Italia, alleanza nazionale, che sostiene la corsa di Giorgia Meloni. Buonasera De Priamo. Buonasera. Allora, prima di cominciare vi voglio ricordare subito che siamo in regime di Parcondicio, abbiamo 20 minuti a disposizione. Cercate di rispettare più o meno gli stessi tempi nelle risposte e soprattutto vi chiedo un po' di collaborazione per quanto riguarda il fatto di non incalzare in maniera tale che poi le vostre proposte politiche possano arrivare a casa e ai telespettatori in maniera chiara e diretta. Allora, De Vito e De Priamo entrambi, avete avuto già un posto in aula Giulio Cesare come consiglieri, De Priamo durante l'amministrazione di Alemanno nel 2008, De Vito invece durante l'amministrazione di Ignazio Marino nel 2013. Perché avete deciso di ricandidarvi? Cominciamo con De Vito. Per proseguire quello che abbiamo fatto nella precedente consigliatura, è stata una consigliatura di grande crescita da parte del Movimento 5 Stelle, in quattro abbiamo fatto un lavoro enorme nel Consiglio Comunale, non solo in termini di protesta come spesso abbiamo sentito, ma anche di proposte. Abbiamo avanzato molte proposte, tante nostre emozioni sono passate e pertanto riteniamo di aver acquisito l'esperienza necessaria per governare la città, anche a fronte di quello che abbiamo visto nella precedente consigliatura ad opera degli altri schieramenti ed in particolare dello schieramento di maggioranza che ha fatto vedere ai cittadini romani, oltre che mafia capitale, disservizi e un debito che continua a crescere e le tasse più alte d'Italia. Quindi abbiamo studiato la macchina capitolina, oggi riteniamo di essere pronti per governare. Devriamo? Personalmente in questi tre anni sono stato il coordinatore romano di Fratelli d'Italia e quindi su tutta quella che è la nostra città ho cercato insieme a tante altre persone di mettere in campo un movimento che potesse essere davvero espressione del territorio. E quindi ovviamente come coordinatore romano di questo movimento, di fronte a una sfida, a una scelta impegnativa e una scelta vera di amore verso la città del candidato sindaco Giorgia Meloni, non potevo non ritenere anche di metterci la faccia, come si dice. Inoltre anche dal punto di vista della precedente esperienza in assemblea capitolina ritengo, avendo lavorato soprattutto su alcuni temi come quello dell'ambiente, avendo ricoperto il ruolo di Presidente della Commissione, ma più in generale su tanti temi legati alla difesa del territorio, di poter continuare a migliorare un lavoro in particolar modo sul tema del decoro urbano e della sostenibilità ambientale nel suo complesso. Vi piace questa campagna elettorale, una campagna elettorale che molti definiscono pazza, ha tanti colpi di scena, tante polemiche, ma ha pochi contenuti. Allora che percezione avete andando sul territorio? Stato riuscendo a parlare alla pancia dei cittadini, alle prese con una Roma, ormai siete tutti d'accordo nel definire un tale declino, al collasso? No, no, prego, prego. Tutto quello che hanno visto e quindi oggi ritengono che il Movimento 5 Stelle si accrediti realisticamente per governare Roma. Di contro devo dire che da parte degli altri schieramenti abbiamo visto solo alchimie di alleanze, balletti su come si dovevano alleare, però non abbiamo capito che proposte hanno per Roma. Neapriamo, d'accordo? No, non sono d'accordo relativamente a quest'ultima parte. Sono d'accordo sul fatto che per troppo tempo in questa campagna elettorale si è parlato di nomi, si è parlato di alchimie politiche e poco di contenuti. Per quanto ci riguarda noi stiamo percependo un grandissimo entusiasmo verso Giorgia Meloni e in tutti i luoghi dove lei, ma anche ognuno di noi, poi va a portare avanti i nostri programmi e i temi della campagna elettorale. Speriamo, spieghiamo che questa fase, che comunque è ancora abbastanza lunga, ma sarà una volata, ovviamente ci porterà al 5 giugno, possa concentrare di più l'attenzione sui temi reali della città. Noi abbiamo un programma che nasce dal confronto fatto sul territorio, abbiamo avviato più di due mesi fa, quindi in tempi non sospetti, molto prima dell'apertura ufficiale della campagna elettorale, un percorso che avevamo definito Roma Rinasce, fatto di confronto municipio per municipio, di confronto di ascolto con tutte le categorie della città, perché se davvero vogliamo rimettere in piedi questa nostra amata città, dobbiamo partire da quelle che sono le problematiche delle varie categorie, ascoltare e poi arrivare a fare delle proposte. Abbiamo fatto questo tipo di lavoro, sulla base di questo lavoro abbiamo un programma molto chiaro e vediamo che quando si ha la possibilità di confrontarsi su questo, i cittadini rispondono anche sulla base dei temi da noi portati avanti e non solo sulla base del carisma del nostro candidato sindaco Giorgia Meloni. La notizia della giornata è l'esclusione dalle liste che sostengono la candidatura sindaco di Stefano Fassina, candidato per sinistra italiana, Fassina ha fatto sapere di aver presentato ricorso al TARA, assicura che si resterà in campo, una sua esclusione però, che scenario apre De Vito? Beh intanto dispiace sempre quando un competitor esce di scena, però devo dire che Fassina in questa campagna elettorale ha tirato fuori dei temi che noi abbiamo seguito molto, mi riferisco ad esempio alla gestione del debito commissariale che Veltroni lasciò a Roma, quindi i 22 miliardi del 2008, quindi fare chiarezza sui conti di questa gestione commissariale, cosa su cui noi ci siamo battuti per anni, o anche il tema dell'emergenza abitativa, ad esempio dei piani di zona, che sono una cosa su cui noi combattiamo da anni, perché sono stati esempi di amministrazione, di opacità, diciamo così, da parte dell'amministrazione, spesso con prezzi massimi di cessione non rispettati nei confronti degli inquilini, o anche di opere di urbanizzazione non fatte, alcuni istituti dicono a Roma che un miliardo e mezzo di opere di urbanizzazione non sia stato realizzato. Pertanto se vi è coerenza, e se vi è coerenza anche da parte del candidato, o ex candidato, speriamo di no, Fassina, allorché diceva che in caso di ballottaggio avrebbe votato il Movimento 5 Stelle, e noi ospichiamo che la comunanza di questi temi e le battaglie che ha fatto da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle sia recepita nel caso tanto dal candidato quanto da quella parte dell'elettorato. De Prima, per lei che scenario apre? Perché si parlava di malumori nel comitato elettorale della Meloni, insomma, per questa notizia. No, no, noi non abbiamo nessun malumore relativamente a quelle che sono le scelte, in questo caso non le scelte, ma diciamo quella che è il cambiamento del quadro relativamente alle altre coalizioni o agli altri candidati sindaci. Siamo tranquillamente soddisfatti di quello che stiamo facendo e dei riscontri che stiamo avendo. Indubbiamente registriamo, bisognerà vedere ora i ricorsi, però insomma registriamo che l'assenza di Fassina dalla competizione intanto non è comunque mai positivo se c'è un minore pluralismo in quella che è la competizione, noi vogliamo che ci sia un confronto con tutte le varie istanze, più o meno, e noi siamo ovviamente molto lontani da quella che è la proposta politica di Fassina e dei movimenti che lo sostengono, però indubbiamente c'è un vantaggio, un ipotetico vantaggio per quello che è il Partito Democratico e non possiamo non notare che una parte di SEL, cioè di quelli che sono i sostenitori di Fassina, non era certamente entusiasta di andare con la candidatura di Fassina. Ora non vogliamo in questo vedere necessariamente una dietologia o un complotto, però sicuramente il quadro politico rappresenta questo. Da un altro punto di vista, ripeto, noi insomma pensiamo che i cittadini ora valuteranno sulle proposte politiche che sono in campo, insomma si andrà avanti con la campagna elettorale, in ogni caso Fassina stando per quello che possono valere i sondaggi aveva un consenso piuttosto relativo e quindi non dovrebbe cambiare molto su quella che è la sfida dei candidati più accreditati per la vittoria. Io te la faccio recuperare adesso su questa risposta, visto che... Allora, l'altra notizia della giornata è quella relativa alle Olimpiadi del 2024. È iniziato oggi questo tour di incontri tra i vari candidati e il presidente del CONI Malagò. Oggi ha iniziato il tour Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle, è stata nel pomeriggio la volta di Alfio Marchini. Allora, però, per quanto ci riguarda, adesso parliamo della Raggi, un incontro definito molto positivo dal presidente Malagò. La Raggi ha detto nessun pregiudizio, ma prima l'ordinario. Allora, la domanda è, le Olimpiadi sono un'opportunità per il territorio di Roma, sono un terreno fertile per fenomeni di corruzione? Dipende da come vengono gestite. Noi fumo l'unico gruppo che votò negativamente, perché la gestione dei grandi eventi a Roma ha sempre portato grandi sprechi, grandi opere incompiute. Inoltre, in questo momento, la città è devastata. Pertanto bisogna pensare, come ha detto correttamente Virginia Raggi, prima a quello che è ordinario. Poi si può anche pensare di fare le Olimpiadi, ad esempio l'ipotesi del referendum è un'ipotesi che bisogna prendere in considerazione. Voglio anche ricordare che quando si parla di sport a Roma non è che si deve parlare soltanto dell'evento che dura 15 giorni Olimpiadi. Ad esempio a Roma abbiamo centinaia di impianti che versano in pessimo stato, quindi questa potrebbe essere anche un'occasione per rimettere a posto questi impianti. Di sicuro c'è una cosa che se si dovessero fare, laddove magari i cittadini romani esprimessero un voto o una valutazione favorevole, laddove gestire dal Movimento 5 Stelle, noi siamo certi che ci troveremmo per la prima volta al cospetto di un grande evento che viene gestito con legalità, trasparenza e corretta gestione dei soldi. Recupero quei 10 secondi solo per rispondere. Ho sentito prima il servizio di Alfio Marchini, francamente quello che ha detto ci lascia estremamente basiti, soprattutto da chi si è dichiarato libero dai partiti e oggi si allea con Forza Italia, mettendo nelle sue liste un cospicuo numero di candidati che facevano parte di altre forze politiche. Capriamo, ma invece noi rimaniamo sul tema delle Olimpiadi. Sì, sulle Olimpiadi noi abbiamo, fin da quando stavamo all'opposizione in Campidoglio, spesso un orientamento positivo, nel senso che abbiamo posto e poniamo e quando Giorgia Meloni governerà la città trasformeremo queste osservazioni in fatti concreti, una serie di criticità rispetto all'impianto che si sta mettendo in campo sulle Olimpiadi, ma sul concetto in sé di fare questo e di spingere la città, la capitale d'Italia, ricordiamolo a questo grande evento, siamo favorevoli perché pensiamo che se la logica sia quella di presupporre la possibile corruzione come elemento ostativo per ogni cosa, lo sviluppo della città già che sta sicuramente al palo viene ancora meno, ma soprattutto le Olimpiadi sono da sempre un elemento di socialità, di promozione di valori sani e positivi a livello internazionale, la nostra è una città ovviamente e storicamente a vocazione internazionale e quindi non può dire no alle Olimpiadi. Da questo punto di vista credo che ci voglia chiarezza, per cui dire un po' sì e un po' no rischia di essere una posizione poco chiara verso i cittadini, anche perché l'ipotesi referendum è un'ipotesi non praticabile, nel senso che già da settembre ci sono degli appuntamenti molto importanti a livello di comitato olimpico, per cui ricominciare con una espressione di parere sulle Olimpiadi significherebbe tornare indietro e perdere questo appuntamento, bisogna dirlo concretamente ai cittadini. Se si vogliono le Olimpiadi ci si deve mettere al lavoro per farle e la decisione è stata già presa a suo tempo all'Assemblea Capitolina, oggi noi diciamo che chi vota Giorgia Meloni, tra le altre cose, sa che Giorgia Meloni è favorevole delle Olimpiadi. Vi chiedo di essere un po' più risposta perché mancano sette minuti alla chiusura e ci sono ancora tanti temi che vorrei toccare, allora entriamo più nel vivo del programma, ricominciamo con Depriamo adesso, invece mobilità e manutenzione delle strade sono due priorità in cima al programma sia della Raggi che della Meloni. Sì, noi oggi, Giorgia Meloni oggi è stata, c'è presente anche io e alcuni nostri esponenti del nono municipio all'Eur davanti alla nuova di Fuxas, per dire che cosa? Per dire che opere che complessivamente, sommando la nuvola di Fuxas con le vele di Calatrava, sono costate un miliardo di euro complessivamente e sono entrambe opere sostanzialmente ferme, non sono cose più tollerabili, quindi se si fosse stata data più attenzione alla manutenzione dell'ordinario e ai servizi non avremmo scempi di quel tipo, quindi bisogna ripartire da un'impostazione diversa, cattedari nel deserto di quel tipo in assenza di infrastrutture non sono possibili se si vuole fare qualcosa di serio per la città. Nevito? Sì, grandi opere incompiute che però sono il lascio delle precedenti amministrazioni. Sulla mobilità due cose, allora innanzitutto dobbiamo mettere mano nella principale azienda che veramente una volta era il fiore all'occhiello dei trasporti, quindi ATAC, quindi eliminare sprechi, privilegi e mancate entrate che i vizi purtroppo della vecchia politica ci lasciano. Occorre anche controllare l'appalto Roma TPL dove è incredibile che ci siano lavoratori che da anni non percepiscano regolarmente lo stipendio. Fatta questa azione serve anche poi investire in un altro concetto di mobilità. Si è continuato a investire in una grande opera come Metro C, 300 milioni al chilometro, dobbiamo invece invertire questo paradigma, quindi investire in metropolitani di superficie, piste ciclabili, semaforistiche, intelligente, insomma cambiare il concetto di mobilità per svuotare il centro dal numero enorme di auto che ci sono. Per quanto riguarda le strade, gare pulite, trasparenti e maggiori controlli sull'esecuzione dei rifacimenti dei manti stradali. De Vito allora, oggi ha detto che la sua campagna elettorale costerà meno di 1.000 euro, che non farà fissioni pubblicitarie ed ha proposto a tutti gli altri candidati di fare una campagna elettorale con gli stessi costi e quantomeno di tenersi sotto i 2.500 euro. Esatto, questo è un punto importantissimo secondo me perché il limite per fare campagna elettorale a Roma è di circa 140.000 euro che un consigliere comunale non percepisce in 5 anni. Nelle precedenti consigliature abbiamo visto che alcuni consiglieri hanno speso questo importo e ci si sono avvicinati, spesso finanziati da soggetti che poi sono finiti nell'ambito dell'indagine mafia capitale e molti di questi consiglieri, alcuni di questi consiglieri poi sono finiti nell'indagine. Cioè questo innesca un meccanismo molto dubbio, diciamo equivoco. Come si fa a spendere 140.000 euro se poi non li guadagni in 5 anni? Pertanto noi riteniamo che la politica debba essere fatta con costi più bassi, diciamo così, senza soldi. Un nostro portavoce di Battista dice sempre dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei. Noi diciamo sempre che abbiamo un unico lobbista che è il popolo. L'unico modo per servire gli interessi di tutti quanti è fare politica senza soldi. Ecco perché ho lanciato questa sfida. De Priamo, lei quanto pensa di spendere per la sua campagna elettorale e raccoglierà questa sfida, questa proposta di De Vito? Noi abbiamo fatto una cosa diversa. Penso probabilmente anche da poter prendere esempio anche per tanti altri movimenti. Abbiamo avviato un percorso e noi consideriamo la legalità una precondizione, non un tema programmatico della campagna elettorale, ma una precondizione per fare politica dentro una città. Quindi abbiamo ovviamente fatto un percorso di trasparenza. Il tema a mio avviso è quello della trasparenza, non è il tema di un budget più o meno alto. Certo, ovviamente la sobrietà nella campagna elettorale è importante. Credo che quello che questa città ha visto spingerà e stia spingendo, e anche i segnali che ho sono quelli, ad una campagna elettorale non più modello. Peraltro noi non l'abbiamo mai fatta in questo modo, insomma, dei vecchi tempi con spese inutili e folli. Però la bussola è quella della trasparenza, perché quando tutto è trasparente e tutto chiaro, i cittadini possono controllare e il malcostume esce fuori, come noi auspichiamo, da tutte le stanze della politica. Rimangono solamente due minuti, perciò farei, insomma, un minuto a testa, un'ultima domanda per quanto riguarda l'emergenza rifiuti, una materia che in realtà è di competenza della Regione Nazio, ma anche il Comune di Roma può fare la sua parte, anche in maniera importante. De Vito. Partiamo dal presupposto che i romani pagano la tassa rifiuti più alta d'Italia per avere questo servizio. 800 milioni, il 55% è sostenuto dalle imprese che stanno morendo di tassa rifiuti per avere questo servizio indegno. quindi prima di tutto andare a mettere le mani in ama, tagliare anche lì gli sprechi privilegi che ci sono e investire in un altro, anche qua, concetto. Per anni abbiamo buttato i rifiuti in una grande discarica creando un'ecobomba, dobbiamo invertire anche in questo caso totalmente la rotta, quindi investire sulla raccolta porta a porta, potenziare il porta a porta, fare gli impianti di riciclo e di riuso. E prima? La raccolta differenziata a Roma ha avuto un grande incremento grazie al lavoro che abbiamo fatto a suo tempo, una delle cose sicuramente buone fatte quando il Centro di Tassa è governato a Roma. Quello che manca è la fase cosiddetta di chiusura del ciclo dei rifiuti, cioè consentire poi un riciclo effettivo e quindi realizzare quegli impianti che facciano diventare la raccolta differenziata una risorsa e non un costo e quindi permettere anche di pagare di meno la TAI in relazione alla maggiore raccolta differenziata che si fa, aiutare i cittadini dalle cose semplici come anche una busta per l'umido che non si capisce perché un cittadino debba pagare e non gli debba essere fornita. In dieci secondi la squadra di governo in casa di Vittoria la presenterete prima, invita ad un posto di Assessore, Vice Sindaco, Presidente dell'Assemblea Capitolina. Giorgia Meloni ha detto che ha in mente alcuni nomi ma che non può, e credo sia giusto dire questo, non tenere conto di quello che diranno le urne anche relativamente al risultato elettorale e anche internamente alla coalizione e tenere conto di quello. Quindi probabilmente potrà indicare qualche nome ma complessivamente la squadra si farà successivamente. Adesso l'importante è far capire ai Romani che con Giorgia Meloni Roma può cambiare davvero e può tornare a una città soprattutto, toccando un tema che non abbiamo per niente detto, anche più sicura per tutti i cittadini. È ancora prematuro parlarne ma se faremo in tempo, se completeremo il lavoro potremo dirlo prima delle elezioni. Grazie, il tempo a disposizione è finito, perciò in bocca al lupo ad entrambi a Marcello De Vito per il Movimento 5 Stelle e ad Andrea De Prima, Fratelli d'Italia, Alianza Nazionale. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, rimanete su TeleRoma 56, arrivederci.